I tamponi rispetto a ieri sono quasi un terzo e la positività rimane stabile al 14,3%. Questi i dati del report del lunedì, un bollettino che risente come di consueto della diminuzione dei tamponi effettuati nella giornata di domenica. A fronte di 68.733 test in Lombardia sono risultate positive al Covid 9.883 persone. In terapia intensiva oggi sono ricoverati 267 pazienti, uno in meno di ieri, mentre nei reparti ordinari i letti occupati sono 3.649, 83 in più di ieri. Aumentano purtroppo anche le vittime, oggi sono 81, un numero che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 35.992. Tra le province lombarde, Milano risulta in cima alla lista per numero di casi, 3.350 di cui 1.420 a Milano città. Subito dopo Milano c'è Brescia dove i positivi sono 1.577. Sotto i 1.000 casi tutte le altre province a Como sono 516, mentre Sondrio e Lecco si mantengono sotto la soglia dei 200 casi, con rispettivamente 161 e 165 positivi. Grazie. 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 Grazie.